anche da skyrim come casa degli assassini parleremo di questa notable house particolarità io questa qui la definisco la casa degli assassini o la definisco una casa trofeo perché la definisco una casa trofeo come potete vedere l'ingresso ora facciamo un po luce con la relativa porta degli assassini pergamene sparse terra anche sta casa nasce come arredata e poi viene completata con una piccola libreria in cui c'è il mercante c'è il banchiere c'è il pirari naturalmente il il libro degli assassini eccolo qui la via delle ombre e la trasmut in questo studio continuiamo il nostro percorso sulla destra sotto i portici scavate si è ricavato lo spazio per le ceste e il tesoro continuando si vede la statua degli assassini tipica che è la statua di sitis the dread father e le station sorgono al centro di una piazzetta eccole qui sempre un'altra statua di siti salendo vediamo il classico rosone rosone della gilda degli assassini immense cascate circondano sempre sta casa come se fosse all'interno di una una montagna piena e cascate naturali sorgive e arriviamo allo studiolo con relativa camera e con e con vista direttamente che sfocia al di là della falda della falda relativa nel gol relativa nel gold cost la casa notiamo si trova vicino a kvac la capitale ed è nella gold cost calcoliamo è a e a west della mappa italia qui con relativa relativa sala riunioni o da pranzo e sfociamo in questa galleria degli assassini dove sono stati situati dei manichini il trono che lo sviluppato stile marmire molto interessante per spaccare lo stile destro quasi sciamanico in questa maniera della casa e il manichino principale oltre che il manichino secondario questa casa perché la chiamo la casa dei trofei la chiamo a casa e trofei perché dalle raccoglie molto interessanti e nella terza stanza si può personalizzare la cosa nell'ultima stanza può essere personalizzata dal livello del rosone combusti dorati piazzati su tutti queste queste inclinazioni naturali che vengano fatte busti dei nemici sconfitti e uccisi il che la rende al tempo stesso inquietante come dovrebbe essere una casa degli assassini ma al contempo anche affascinante e qui abbiamo una piscina tonda prevalentemente al centro della sala con relativa illuminazione bene questa è la visione del santuari spero vi sia piaciuta chiaramente il santuario è una casa molto veloce da girare perché è molto radunata tutto all'interno dell'ultima ala e quindi faceva girare spero vi sia piaciuta ci vediamo alla prossima trasmissione grazie